Buonasera a tutti e benvenuti alla Night Session di venerdì 22 luglio. Sono le 22.49 e dopo tanto tempo e tanta attesa finalmente siamo arrivati a guadagnare poco in termini di denaro, ma a guadagnare tanto in termini di esperienza. E vi illustro perché l'ottavo T-3 prima non l'avevo posizionato qui, non mi convinceva molto come centratura, sinceramente l'avevo messo qui. Per cui quando siamo andati in violazione del minimo da cui è partito, noi siamo andati short, salvo che poi abbiamo iniziato a vedere una salita di Bitcoin, poi un'altra salita, tutto mentre tra l'altro se non sbaglio arrivava la notizia che Tesla aveva venduto e quindi non si sarebbe dovuto scendere. Quindi queste notizie servono proprio molto a fare trading, sì sì, assolutamente. Andate a cercarle soprattutto dopo che succede qualche cosa, non venite qui a vedere che cosa può succedere prima. In ogni caso, quando le cose non vanno per il verso corretto, inizio a fare una cosa ed un'unica cosa, almeno ho imparato a capire che paga fare un'unica cosa. La prima cosa che paga a fare è iniziare a fare ragionamenti. Qui poteva arrivare a 50 barra il settimo T-3? No. Qui potevamo arrivare qui poi, che tipo di raccordo poteva esserci eventualmente prima della partenza comunque da qui di un minimo, che lanciava un nuovo T-3 perché era evidente che qui partissero un nuovo T-3? Era giusta la collocazione del secondo ciclo giornaliero inverso o c'è un raccordo, raccordi da per... Allora, innanzitutto facciamo chiarezza. Il raccordo di un raccordo non esiste, ok? Non può esserci il raccordo del T-2 che è già il raccordo tra due T più 1, ok? Due cicli bisettimanali. Non c'è, sennò diventa una roba impossibile, cioè non si capisce più niente, non è... Diventano regole poco efficaci, ok? Quindi invece che fare quello che si fa nelle altre chat, nel gruppo premium, mediamente chiedo alla gente di ragionare e di dire cosa vediamo, cosa stiamo vedendo. Anche perché una delle regole fondamentali che ho imparato nella vita è che chi farà da sé fa per tre. Aiutati, che il Cielo ti aiuta. Non aspettare sempre che arrivi qualcuno a risolvere la situazione. Ragiona con la tua testa. Perché se impari a ragionare con la tua testa, poi non hai più bisogno di cercare guru. Di cercare gente che ti dica come si risolve la faccenda. Gente che peraltro se scompare, voi rimanete con un palmo di naso e dovete trovare un nuovo guru, trovare un nuovo trader, trovare qualcuno tra l'altro di affidabile che continua a farli i video. Anche se state, anche se sta per partire. Anche se sono le 22.53. Anche se sbaglia e che ammette quando sbaglia, perché è dall'errore che si impara a non fare più l'errore, a capire cosa è andato sbagliato e a migliorare e a evolvere. L'errore non va rifugito. Il trade sbagliato è importante per capire cosa si è sbagliato, quale parte del processo va migliorata, va implementata, va cambiata. Perché comunque ha portato a un risultato non piacevole. Ok? Questo è quello che troverete da anni, ok? Su questo canale ed eventualmente anche sui vecchi video di TradingView. una persona che dice vi spiego che cosa è successo. Non che scappa. Che non c'è più. Ok? Io sarò sempre qua. Nel bene o nel male, quando sbaglierò una previsione piuttosto che quando invece le cose andranno bene. Questa è la mia promessa in questo canale. Da sempre, tra l'altro. Non è un anno che sono qui. Sono tanti anni che mi occupo di trading e sono migliorato anche tanto a livello previsionale. Prima sbagliavo di più. Tre, quattro anni fa era ben diversa la faccenda. Ma a furia di ripetere questo processo in continuazione come se fosse una persona che vuole imparare a nuotare e che non sa nuotare e che è stata buttata nell'oceano ecco. Io ho continuato a dire ce la faccio da solo. Ci provo da solo. Poi eventualmente sento anche un'altra campana se le cose non dovessero andare. però intanto inizio a ragionare. E infatti la cosa più bella nel gruppo premium è vedere che non c'è gente che si siede e dice boh adesso cosa che cosa succederà qui sta andando male ci sono persone anche fortunatamente che si mettono a dire aspetta un attimo ma la centratura di Jacopo è corretta non ce ne può essere un'altra alternativa facciamo una cosa usiamo le regole e arriva che cosa? E arriva a vedere se magari qui le regole ci dicono che può aver chiuso comunque il primo t-3 inverso il primo ciclo giornaliero inverso che parte da minimi che parte da massimi va su minimi e torna su massimi se da qui ci sono anche le condizioni necessarie sufficienti per far partire un secondo t-3 che peraltro non va a essere inferiore alle 24 barre arriva invece a 36 e non va oltre le 44 e a quel punto controlla anche se da qui può essere partito il terzo t-3 inverso ecco l'errore perché facciamo tutti errori non ci sono metodi perfetti altrimenti però ci sono metodi che rendono come asset line stessa cosa qui ribadisco la mia centratura era questa ok era questa qua se l'andate a rivedere il settimo t-3 finiva qui e l'ottavo partiva da questa candela verde qua delle 6,30 si vincolava ribasso l'ottavo t-3 e noi però continuavamo a salire se invece ricontrollate con le regole questa centratura attuale vedrete che ci sta non è bella di nuovo manca la condizione dello swing e lo so a volte può mancare ma non è obbligatorio lo swing e però caspiterina qua si arriva esattamente a 24 barre e poi parte ecco anche lì grazie agli swing io ho deciso quest'oggi di stare in silenzio nel gruppo premium per vedere come reagivano le persone ho dato delle indicazioni la mattina ho detto che stavo ragionando sulla centratura infatti lo stavo facendo in silenzio come al solito perché per arrivare a determinati livelli ribadisco prima si interiorizzano le regole del metodo si capisce a fondo il metodo e dopo che si è compresa la teoria che per me sembrava di una banalità incredibile quelle dieci pagine di appunti che vi giro ma mi sono chiare ma perché continuo a sbagliare e sì se però ti sono chiare mi dicevo adesso però basta seguire gli altri iniziamo a fare da noi prendiamo anche altri altri asset altri cripto Ethereum Cardano e proviamo a farla da noi questa centratura spacchiamoci la testa finché non arriviamo a capire a che punto siamo e a un certo punto metterci anche dei soldi e dire ok voglio vedere se effettivamente il metodo paga a furia di fare paper trading a furia di provare in simulata in demo vediamo se adesso i risultati che in demo li riporto anche nella realtà e inizio a guadagnare è così che si fanno i passi avanti l'ho detto anche nella conferenza fatta per volumetrica all'Italian Trading Forum di Rimini quest'anno si sbaglia è inevitabile lo dico mia figlia sbaglia amore mio impara a dare gli errori perché se non sbagli pensi di essere il migliore poi arriva un altro bambino o un'altra bambina e ti batte e tu piangi perché a nessuno piace perdere però mentre piangi impari a essere più modesto più umile a lavorare più degli altri e a continuare a spaccarti la testa per capire come andare in profitto il più possibile come perdere il meno possibile perché è questo che vogliamo giusto? ed è in questo modo che sto educando mia figlia a sbagliare per capire che non arriva tutto facile nella vita anzi sono più le opportunità che la vita ci dà di imparare che il duro lavoro è l'unica cosa che veramente paga non il su questo canale avrete un secondo stipendio oltre a quello che avete già grazie al trading e bastano 5 secondi al giorno o un'ora alla settimana per diventare ricchi sì ok bello come no solo solo chi non ha mai fatto trading può dire certe cose e purtroppo solo chi è un esperto rischia di cadere in certe affermazioni davvero che che fanno sorridere invece chi versa sudore sui grafici durante le giornate e tutti i giorni della settimana torniamo a noi però ok forse mi sono dilungato un po' troppo ma parlo soprattutto per chi non conosce il canale qui paga lo studio non regaliamo segnali non siamo come gli altri qui le cose si fanno in maniera professionale seria e non si scappa se si sbaglia si torna a riflettere e si impara ritornando a noi perché ho aspettato quest'interminabile salita rischiosa perché è ritornato parecchio vicino al nuovo team verso e adesso mi godo il piccolo profitto fatto ok perché ho chiuso per sicurezza a un certo punto la pazienza umana ha i suoi limiti e ho chiuso con pochissimo davvero veramente poco ma va bene lo stesso l'ho fatto per vari motivi ho aspettato perché uno effettivamente scomponendo in maniera differente rispetto a quella che era la centratura precedente facendo partire da qui il secondo t-3 già qui ho detto bene abbiamo 19 barre dai che ne facciamo altre 5 e chiude con un massimo e invece è sceso e risalito sopra il massimo ho detto dai adesso siamo a 31 32 arriviamo la durata media e se la facciamo invece no perché perché bisogna esercitare la pazienza perché non può essere sempre tutto facile sempre tutto incasellabile in qualche cosa di perfetto una durata di 32 barre è una durata media ma non è la durata che riscontrerete su qualsiasi grafico troverete sempre tra le a volte purtroppo 23 barre non 24 rare volte per adesso ma le stiamo contando e le 44 che sono un'infinità eh avremmo potuto continuare a salire fino alle 20.45 in teoria ma 1 ho atteso perché comunque volevo andarmi a giocare le mie carte seconda cosa avevo un'informazione estremamente interessante a parte il fatto che qui l'avevamo tirata veramente in lungo eravamo andati oltre le 11 barre grazie a un raccordo inverso e quindi cosa può partire da qua sopra finito un raccordo inverso dopo che cosa dopo un T più 1 anche potenzialmente non soltanto un scusate sì un bisettimanale inverso non soltanto un settimanale inverso ribadisco siamo arrivati a 12 barre più la tredicesima che non fa più parte perché è rossa non scende non scende più altra cosa perché sono tante le cose che ho messo insieme ribadisco tempo durata massima che può raggiungere eventualmente anche un T meno 2 qual è? qui siamo arrivati a 62 barre sono tante sono tante già sono 31 più 31 sono due team elettroni inversi di durata media già non sono così tanto riscontrabili solitamente ok? non è che ce ne siano a bizzeffe fanno 24 e poi boom ritornano a salire o a scendere o vanno dall'altra parte insomma ok? quindi questa il fatto che eravamo arrivati oltre il tempo normale concesso quindi finta e vai ancora di salita per il piacere di chi si era già messo short e anche un'altra cosa che non avevo rivelato a tutti che questo non era soltanto lo swing per il nuovo T meno 1 inverso ciclo a 4 giorni inverso ma era anche quello per la partenza di un nuovo T inverso e per avere un nuovo T inverso regole quindi riflettevo sulle regole non davo opinioni lo ripeto qui le opinioni non ci interessano non servono a niente una è il contrario rispetto all'altra non si sa chi le esprì non servono a nulla qui si utilizza la matematica e si fa affidamento sul metodo che funziona con delle regole che funzionano se qui è partito se in violazione da questo massimo da qui è partito anche un T inverso per farlo iniziare cosa serve sotto un certo massimo non ve lo ripeterò stasera perché siamo già a 16 minuti ok per cui adesso vedrete tra poco qui sopra in alto a destra del video apparire che cosa apparire il link alla serie di 7 video chiamata trading days che vi aiuta gratuitamente partendo da zero a capire che cosa siano questi T più T meno e raccordi e gli inversi tutta sta roba qua che non si capisce o rispolverarla se magari da un po' che non non la vedete o se pensavate che non funzionasse che invece vi siete accorti che questo è uno dei pochi canali che funziona forse non lo so ditemelo voi io vi ascolto sempre e pongo domande non faccio affermazioni quanta gente diceva che entro 336 giorni saremmo rimbalzati e io non lo so lo sapete voi magari quanta gente diceva che non saremmo più scesi e avremmo iniziato a un rimbalzo che sarebbe durato almeno un tot anche se fosse stato un raccordo non lo so siete voi a dovermelo dire a potermelo dire io ormai pesco da solo e so che ci sono tanti fenomeni in giro ok per cui affidandomi alle regole sapendo che la qui era partito un modo inverso sapevo che bisognava rimanere sotto questo massimo per un tot di tempo che non ripeteremo e poi sarebbe partito come minimo un altro t-3 inverso e quindi anche se fossimo saliti poi bisognava scendere bisognava scendere sotto un altro swing o eventualmente ritornare sui nostri passi e anche se fossimo entrati qui come siamo entrati avremmo avuto una buona percentuale come è successo di poter uscire con anche un microscopico gain perché questa tutta questa salita io ve lo dico sinceramente non me l'aspettavo mi aspettavo che avrebbe potuto fare appunto da barriera la media mobile a 50 periodi dato che ci eravamo andati a sotto dai adesso tiene e invece no perché Tesla ha venduto e quindi si ah no si dovrà scendere effettivamente non si dovrà salire allora non è per quello che siamo saliti posso pregare che effetti e ribadisco qui ho segnato nono t-3 ma potrebbe essere primo t-3 e tra poco lo sapremo potrebbe essere ancora nono t-3 perché anche se non andremo sotto questo minimo se partisse il nono e poi facesse il decimo e tornassimo ancora più in basso noi comunque avremmo avuto un nono t-3 un decimo t-3 ribassista che vada a chiudere peraltro che cosa che vada a chiudere questa roba qua non siamo più 8 giorni non l'ho aggiornata ancora ma siamo a 10 a un certo punto bisognerà creare una condizione sufficiente necessaria e sufficiente per la chiusura di un settimanale non ce l'avevamo già qua ok ma qui chiuso un t-2 inverso che faceva partire un t inverso che sapevamo che era partito a tempo perché lo sapevamo in violazione di questo minimo questo qua a 22.916 e poi dopo che si fa la u si torna a scendere perché come minimo parte un t-3 inverso e allora devo andarmi a cercare lo swing per un t-3 inverso se poi fa questa candela qua mentre lo viola io non esco se poi mi fa un rimbalzino aspetto intanto sono a livello della media mobile a 50 periodi ci sbatte contro la candela successiva non fa cose particolari e più maggiù e tutto questo metodo lo si può prendere e illustrare a livello di motivazioni per cui abbiamo fatto certe cose in qualsiasi candela lo si guardi se trovate altri trader o altri analisti che a parte dirvi che cosa pensano le loro opinioni sanno motivare i propri trader le proprie operazioni e illustrarvele tenetevi ristretti perché avete qualcuno che sa di che cosa parla chi non sa motivarvi adesso si va a 13.000 adesso si va a 5.000 adesso to the moon se non vi sanno dare una motivazione legata a quello che sapete che adesso funziona volumi tempo tutto il resto lasciate perdere è un'affermazione che trova il tempo che trova per cui cosa facciamo adesso ultimissima cosa perché è diventato un webinar lo sapevo porca miseria volevo fare altro ok anche prima delle vacanze lavoro si chiama passione però ogni tanto potrei anche dare meno allora si aspettano le 44 bar si vede che cosa succede dentro queste 44 se troviamo ancora un minimo non soltanto inferiore a questa candela ma si trova ancora sotto questa candela ovvero sotto i 22.350 dollari a quel punto lì se già si va sotto grazie tante abbiamo una possibilità di scendere perché siamo come detto arrivati a 10 barre contro quante di salire una miliardata ok per cui non fate che vi prudano le mani d'accordo attendete sempre le conferme da swing volumi tempo ciclico e ragionate imparate a ragionare studiando prima le regole e poi ragionando su tutto il resto non facendo ipotesi non provando con altre cose che non funzionano indicatori farlocchi ne ho provate tante di cose per arrivare a questa evoluta ma è proprio tante se mi parlate di tanti indicatori vi dico cosa non funziona su ogni indicatore di cui mi parlate non mi interessa più parlare dell'indicatore stesso per cui prima cosa vado a vedermi come detto il tempo massimo del nono t-3 barra nuovo t-3 poi altra cosa vado immediatamente a guardarmi l'inverso vedo che siamo arrivati a 12 barre in media anche se soltanto si arrivasse a 14 potrei avere un sussulto rialzo e poi vado a vedere dove fa il secondo massimo per l'inverso ovvero minimo di discesa faccio tanti altri ragionamenti anche perché se qui mi rimbalza per 5 candele e poi torna sotto con la sesta un pensiero ancora uno short lo faccio altrimenti ribadisco se entro la 44 e ritorno qui sotto lo short inizio a cancellarlo dalla testa vedo se riuscirò a fare comunque un aggiornamento anche o domani pomeriggio o domani sera direi che è tutto guadagno microscopico rimbalzo più alto del previsto ma tanti spunti per fare un video su come si muove un trader ovvero zero opinioni tante riflessioni e metodo regole in un mondo così pieno di elementi eterogenei che possono impattare sul prezzo di bitcoin soltanto la matematica la statistica possono funzionare e lo dimostriamo da anni su questo canale gennaio 2018 abbiamo fatto eroi? sì assolutamente assolutamente ma pochissimo rispetto a quello che invece facciamo e dimostriamo da un po' di anni appunto non da qualche mese buona serata a tutti arrivederci grazie a tutti Grazie.